Intorno alle 10 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in strada di Casale a Vicenza per un incendio che ha coinvolto il tetto di una casa bifamiliare. L'incendio probabilmente innescato da un camino si è subito diffuso al tetto ventilato. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute con un autopompa, un autobot e un autoscala e nove operatori coordinate al funzionario di guardia e dal capo servizio hanno tagliato con un'apposita motosega parte della copertura per evitare il coinvolgimento di tutto l'edificio.